Oso, ogni sport oltre, è uno speciale strumento, un portale, una piattaforma che vuole crescere e che mette in condizioni chi è portatore di handicap di sapere come e dove andare a far sport. Ironmind è un progetto dedicato ai ragazzini, ai minori con una disabilità motoria e sensoriale o affetti da una malattia grave. È un progetto che dice ai ragazzi fai sport. La risposta generalmente è io faccio sport con il quale, quello che decidi, quello che scegli. Infatti il progetto parte con i primi due giorni dove facciamo provare a più ragazzi possibili sette attività sportive. Il basket, il tennis, il nuoto, il tiro con l'arco, il tennis da tavolo, la scherma e il canottaggio. L'obiettivo è quello di far capire che da disabile puoi diventare un superabile, che lo sport può fare la differenza, che lo sport può essere la medicina in più.